Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, oggi è il martedì 7 di giugno del 2022. Noi ieri abbiamo incominciato a leggere il libro del profeta Osea. Noi quest'oggi continueremo a fare la lettura, infatti noi leggeremo capitolo 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi andiamo subito a leggere la parola del Signore. Osea capitolo 6. Diranno, venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà. In due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla Sua presenza. Conosciamo il Signore e sforziamoci di conoscerlo, la Sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Che ti farò, o Efraim? Che ti farò, o Giuda? La vostra bontà è come la nuvola del mattino, come la ruggiada del mattino che presto scompare. Per questo io faccio a pezzi, mediante i profeti, e li uccido con le parole della mia bocca. E il mio giudizio verrà fuori come la luce. Poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma essi, come Adamo, hanno trasgredito il patto. Si sono comportati perfidamente verso di me. Galahad è una città di malfattori. È piena di tracce di sangue. Come una banda di briganti attende in agguato la gente, così fa la congrega dei sacerdoti. Assassinano sulla via di Sichem, commettono sceleratezze. Nella casa di Israele ho visto cose orribili. Là si è prostituito Efraim, là Israele si contamina. A te pure, Giuda, una mietitura è assegnata, quando io ricondurrò dall'esilio il mio popolo. Osea, capitolo 7 Quando ho voluto guarire Israele, allora si è scoperta l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, poiché praticano la falsità, il ladro entra e i briganti scorazzano fuori. Non dicono in cuor loro che io ricordo tutta la loro malvagità. Ora, le loro azioni li circondano, essi sono davanti a me. Essi rallegrano il re con la loro malvagità e i principi con le loro menzogne. Sono tutti degli adulteri, sono ardenti come un forno scaldato dal fornaio. Quando smetti di attizzare il fuoco, dopo che hai impastato la pasta e aspetta che sia lievitata. Nel giorno del nostro re, i principi si sono ammalati. A forza di scaldarsi con il vino, il re stende la mano ai boffoni. Nelle loro insidie, essi rendono il loro cuore simile a un forno. Il loro fornaio dorme tutta la notte e la mattina il forno arde come un fuoco divampante. Tutti sono ardenti come un forno e divorano i loro governanti. Tutti i loro re cadono. Non c'è ne uno, non c'è ne uno tra di loro che gridi a me. Efraim si mescola con i popoli. Efraim è una focaccia non rivoltata. Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non ci pensa. Capelli bianchi gli appaiono qua e là sul capo ed egli non se ne accorge. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, ma essi non tornano al Signore loro Dio e non lo cercano nonostante tutto questo. Efraim è come una colomba stupida e senza giudizio. Essi invocano l'Egitto, vanno in Assiria. Mentre andranno, io stenderò su di loro la mia rete. Ve li farò cadere come gli uccelli del cielo. Li castigherò come è stato annunziato alla loro comunità. Guai a loro perché si sono sviati da me. Rovina su di loro perché si sono ribellati a me. Io li salverei, ma essi dicono menzogne contro di me. Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti. Si radunano ansiosi per il grano e il vino e si ribellano a me. Io li ho educati, ho rinvigorito le loro braccia, ma essi tramano del male contro di me. Essi tornano, ma non a chi è in alto, sono diventati come un arco fallace. I loro capi cadranno per la spada a motivo della rabbia della loro lingua. Nel paese d'Egitto si faranno beffe di loro. Osea capitolo 8 Metti in bocca il corno, come un'aquila piomba il nemico sulla casa di Israele perché hanno violato il mio patto e hanno trasgredito la mia legge. Essi grideranno a me, mio Dio, noi di Israele ti conosciamo. Israele ha rigettato il bene, il nemico li inseguirà. Si sono costituiti dei re senza il mio ordine. Si sono eletti dei principi, ma a mia insaputa. Si sono fatti con il loro argento e oro degli idoli destinati a essere distrutti. Il tuo vitello, o Samaria, è un'abominazione. La mia ira divampa contro di loro. Quanto tempo passerà prima che possono essere purificati? Poiché viene da Israele anche questo vitello. Un operaio l'ha fatto e non è un Dio. Infatti il vitello di Samaria sarà ridotto in frantumi. Poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta. La semenza non farà stello. I germoli non daranno farina. E se ne facessero gli stranieri la divorerebbero. Israele è divorato. Essi sono diventati fra le nazioni come un vaso che non viene apprezzato. Poiché sono saliti in Asiria come un asino selvatico cui piace starsene solitario. Efraim con i suoi doni si è preoccupato degli amanti. Benché distribuiscono i loro doni fra le nazioni, ora io li radunerò e cominceranno a decrescere a causa del tributo dei re dei principi. Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare e gli altari lo faranno cadere in peccato. Anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia sarebbero considerate come cosa che non lo concerne. Quanto ai sacrifici che mi offrono immolano carne e la mangiano, il Signore non li gradisce. Ora il Signore si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati e si ritorneranno in Egitto. Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha costruito palazzi. Giuda ha moltiplicato le città fortificate, ma io manderò in fuoco nelle loro città ed esso divorerà i loro castelli. Osea capitolo 9 Non ti rallegrare, O Israele, fino all'esultanza come i popoli, perché ti sei prostituito, abbandonato, abbandonando il tuo Dio. Hai amato il compenso della prostituzione su tutte le aie da frumento. L'aia e il frantoio non li nutriranno e il mosto deluderà la loro speranza. Essi non abiteranno nel paese del Signore, ma Efraim ritornerà in Egitto e in Assiria. Mangeranno cibi impuri, non faranno più libazione di vino al Signore e i loro sacrifici non li saranno graditi. Saranno per essi come un cibo di luto. Chiunque ne mangerà sarà contaminato, poiché il loro pane sarà per loro soltanto e non entrerà nella casa del Signore. Che farete nei giorni delle solennità e dei giorni di festa del Signore? Essi infatti se ne vanno a motivo della devastazione. L'Egitto li raccoglierà, Menfi li seppelirà. Le loro cose preziose comprate con denaro le possederanno, le ortiche, le spine cresceranno nelle loro tende. I giorni della punizione vengono, vengono i giorni della retribuzione. Israele lo saprà, il profeta impassisce. L'uomo ispirato è in delirio a motivo della tua grande iniquità e ostilità. Efraim fa la sentinella davanti al mio Dio, Ma il profeta è un laccio di uccellatore su tutte le sue vie, un avversario contro la casa del suo Dio. Essi si sono profondamente corrotti come ai giorni di Ghibea. Il Signore si ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati. Io trovai Israele come uve nel deserto, vidi i vostri padri come i fichi, primatici di un fico al suo primo frutto, ma non appena giunsero a Baal Peor, si appartarono per darsi alla vergogna e divennero abominevoli come la cosa che amavano. La gloria di Efraim, versetto 11, volerà via come un uccello, non più nascite, non più gravidanze, non più concepimenti. Anche se allevano i loro figli, io li priverò di essi, in modo che non rimanga loro nessun uomo, sì, guai a loro quando li abbandonerò. Io, allungando lo sguardo fino a tiro, vedo Efraim piantato in luogo gradevole, ma Efraim dovrà condurre i suoi figli a colui che li ucciderà. Dà a loro, oh signore, che darai? Dà a loro un seno che abortisce e delle mamelle asciute. Tutta la loro malvagità è a Gilgal, là li ho presi in odio per la malvagità delle loro azioni. Io li caccerò dalla mia casa, non li amerò più, tutti i loro principi sono ribelli. Efraim è colpito, la sua radice è secca. Essi non faranno più frutto, anche se generassero. Io farei morire i cari frutti del loro seno. Il mio Dio rigetterà, li rigetterà perché hanno dato ascolto, non gli hanno dato ascolto. Essi saranno nomadi fra le nazioni. L'ultimo capitolo di questa puntata, Osea capitolo 10. Israele era una vigna rigogliosa che dava frutto in abbondanza. Più abbondava il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più bello era il suo paese, più belle faceva le sue statue. Il loro cuore ingannatore, ora ne porteranno la pena, egli abbatterà i loro altari, distruggerà le loro statue. Sì, allora diranno, non abbiano più re, perché non abbiano avuto timore del Signore. Il re che cosa potrebbe fare per noi? Essi dicono delle parole, giurano il falso, fanno pati, perciò il castigo germoglia come erba velenosa, erba velenosa nei solchi dei campi. Gli abitanti di Samaria trepideranno per le vitelle di Beth-Aven. Sì, il popolo sarà in luto per l'idolo. I suoi sacerdoti temeranno per esso, per la sua gloria, perché questa svanirà da lui. L'idolo steso sarà portato in Assiria come un dono al re difensore. La confusione si impadronirà di Efraim e Israele sarà coperto di vergogna per i suoi disegni. Quanto a Samaria, il suo re sarà annientato come schiuma sull'acqua. Gli altri luoghi di Aven, peccato di Israele, saranno distrutti. Le spine e i rovi cresceranno sui loro altari ed essi diranno ai monti, copriteci e ai coli cadeteci addosso. Fin dai giorni di Ghibea tu hai peccato, o Israele. La essi resisterepero, resistettero, perché la guerra mossa ai fili di iniquità non li colpisce in Ghibea. Io li castigherò secondo il mio desiderio e i popoli si raduneranno contro di loro quando saranno incatenati per la loro duplice iniquità. Efraim è una vitella destrata che ama trebbiare, ma io metterò il mio gioco sul suo bel collo. Attaccherò Efraim al carro, Giuda arerà Giacobbe e rpicherà. Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è il tempo di cercare il Signore, finché egli non venga, e non ispanda su di voi la pioggia della giustizia. Voi avete aratto la malvagità, avete mietuto iniquità, avete mangiato il frutto della menzogna, poiché tu hai confidato nelle tue vie, nella moltitudine dei tuoi guerrieri. Perciò un tumulto si leverà in mezzo al tuo popolo e tutte le fortezze saranno distrutte, come Salman distrutte Ber Arbel, il giorno della tua battaglia. Quando la madre fu scacciata con i figli, così vi farà Betel a motivo della vostra immensa malvagità. All'alba il re d'Israele sarà perduto senza rimedio. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto ancora una volta la parola di Dio. e spero che questa parola possa aiutarti a crescere nella fede con il Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù.